Ciao, sono Luigi Magni, chef del ristorante Stefano il Marchigiano. Siamo coccionati i miei mescolati per un po' speciale. Abbiamo bisogno di questi cuti di carne. Bifleng steak. Chuck. Hint shank. Entezo veal. Cotechino. Hen. Role veal head. E due veal tongs. Uno normale e l'altro marinated. Abbiamo aggiungere questi vegetali al brotto. Celere, carri e mani. Prima di tutto mettiamo ogni piaccia di carne in un po' e aggiungiamo il salto. Abbiamo aggiungato ogni piaccia di carne in un po' differente e aggiungiamo il salto. In piaccia di carne, veal e hans aggiungiamo la salsa di tomato. Aggiungiamo la salsa di carne in un po' di poche. E aggiungiamo il patente di carne in un po' di poche. Il carne è coccionato. Ogni cutto di carne ha coccionato per una volta diversa. Il cotechino ha coccionato per 1 e half. E il carne di carne riesce 3 ore perché è il più grande cuoccio. Durante il tempo di coccionato, remove the skim from the broth surface with a skimmer. Now we can prepare the green sauce, we need these ingredients, chopped parsley, a mixture of chopped onions, pickles, capers and anchovies, salt, chopped garlic, boiled and sieved egg yolks, vinegar and extra virgin olive oil. We are going to prepare the green sauce in two ways. The first one with garlic and the second one without. First of all, split the chopped parsley in two balls. Don't squeeze it, but leave it wet. Add the anchovies and onion mixture. Add salt, in the first bowl put the chopped garlic, in the other one the boiled and sieved egg yolks, vinegar, half glass each bowl and cover the mixture with oil. The sauce is ready, now we can wait for the meat. The meat is boiling, but some pieces are ready, like the veal tongs. Take them away from the pot and remove the white skin, it's very easy to take it away. Do this operation by hand, then, with a knife, cut away the fat and darker parts. When the tongs are clean, take the pot away from the fire and put them back in their broth. The hands are ready, we can cut them, first of all take away the string and cut the hand in the middle. Now, a second cut immediately underneath the leg. Finally, the hands are cut. And the meat mixed boiled and meat are ready for serving. Now, i'll see you continue watching. Now, the meat mixed. Now, the meat mixed. Now, the meat mixed. Grazie a tutti.